Ciao amici, oggi il 10 dicembre è la giornata mondiale dei diritti umani. Certo noi che stiamo bene e siamo per fortuna dalla parte dei forti, di quelli che hanno e hanno più del necessario, può sembrare un tantino lontana questa ricorrenza, ma siamo sicuri che anche noi delle civiltà opulente e democratiche vediamo rispettati i nostri diritti? Ma certo cosa dici, mica siamo in una dittatura? A me sembra che alcuni diritti ci siano negati e vorrei che ci riappropriassimo di tre diritti fondamentali di noi esseri umani di cui non si parla mai. E quali sono? Il primo per esempio è il diritto di poter vivere la vita per quello che è veramente, cioè un processo evolutistico e non consumistico. E non è così scusa? No, l'unica evoluzione che ci è concessa è quella di nascere, consumare, evolvere la nostra capacità di consumo e quando diventiamo vecchi essere messi da parte e morire. Ma come sei apocalittica? No, sono realistica. Il diritto alla crescita evolutiva come viene rispettato? Dobbiamo procurarci da soli informazioni e strumenti, dobbiamo trovare noi il senso delle cose e a gran fatica perché normalmente è bello nascosto. Beh, in effetti se la metti così. E che le dici del secondo diritto? Il diritto alla salute naturale. Anche qui non vedo molti diritti. La salute naturale necessaria per vivere bene dovrebbe essere un diritto per tutti se è naturale. Ma quali supporti abbiamo? Ma cosa vuoi dire adesso? Ci fanno mangiare male per farci ammalare e diventare consumatori di farmaci. Ci hanno rubato il tempo che è ciò che può dare qualità alla nostra vita e il tempo senza la cura naturale della salute invece di farci evolvere ci fa ammalare. Simona mi fai paura? Niente paura, basta riflettere un attimo e vedi anche tu che così. E il terzo diritto poco frequentato è il diritto alla felicità. E basta adesso, ma dove vuoi arrivare? Vuoi fare la rivoluzione? Che si può permettere oggi di essere felice? Vedi? Ci hanno abituato a collegare la felicità alle cose materiali, per questo pensiamo che non possiamo permettercela. E invece la felicità è un diritto per ogni essere umano perché è quello stato naturale interiore che non dipende dalle cose esterne. Tutti hanno il diritto di saperlo e di viverlo. Certo così sarebbe un mondo migliore. È quello che vorrei io. Comunque sei la solita buonista. Non sono affatto buonista, non mi piacciono i buonisti. Rifletto sulle cose. Noi che siamo i privilegiati e non siamo privati dei diritti fondamentali della sopravvivenza, vogliamo accontentarci del diritto a consumare o vogliamo pensare ai diritti più profondi della nostra vita. Io invito a farlo o ricordarlo con maggiore intensità oggi in questa giornata dei diritti umani. E non solo oggi. Condividi, clicca mi piace, iscriviti.